Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo di nuovo qui per portarvi le ultime novità del nostro club, che migliora ogni giorno per raggiungere risultati sempre migliori. Prima di tuffarci in questa entusiasmante novità vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, perché insieme siamo più forti. Eccoci qui, oggi parleremo del nostro presidente, Aurelio De Laurentiis, che ha dichiarato ancora una volta il suo impegno per il Napoli. A differenza di tanti commentatori da divano, De Laurentiis non segue solo le partite, ma vive anche la squadra sul campo, dopo la partita contro il Bologna, pur con il risultato deludente. Ha elogiato l'allenatore e la squadra, confermando i miglioramenti che in tanti chiedevano. La verità è che aveva ragione, e le vittorie che seguirono lo confermarono. Il presidente non si accontenta solo di guardare le partite, è davvero coinvolto. Recentemente ha accompagnato la squadra a Lecce e la sera prima ha anche partecipato alla fase pre-partita. E la sua dichiarazione nel post-partita è stata semplice, ma piena di significato, non ho mai avuto dubbi. Sono sempre stato tranquillo, il Napoli è ancora una volta una grande squadra. È ispirato dall'impegno del nostro presidente e dalla fiducia che ha nella squadra. Ora voglio sentire la vostra opinione, fan. Cosa ne pensi del ruolo di Aurelio De Laurentiis nel percorso del Napoli? Crediamo di essere sulla strada giusta per tornare ad essere una grande squadra? Lascia i tuoi commenti qui sotto. E non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Alla prossima novità, insieme verso il successo. Forza Napoli sempre! Alla prossima novità, insieme verso il Napoli.